Da oggi tutta l'Italia ha cambiato colore, si è in zona arancione nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. Il 31 dicembre, l'1, 2, 3, 5 e 6 gennaio si tornerà in zona rossa e tra il 31 dicembre e il 1 gennaio il coprifuoco sarà prolungato fino alle 7 del mattino. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio dunque è possibile spostarsi liberamente fra le 5 e le 22 all'interno del proprio comune. È possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni è possibile anche, però una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici in un comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all'interno della stessa regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, passiccerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario. I negozi possono restare aperti fino alle ore 21. È consentito anche andare in chiesa dalle 5 alle 22 e assistere alle funzioni religiose, come pure sono consentite le passeggiate e le attività motorie. È possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all'interno del proprio comune. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.